I uomini si dividono in quelli che costruiscono e quelli che piantano. I costruttori concludono il loro lavoro e presto o tardi sono colti dalla noia. Quelli che piantano sono soggetti a piogge o tempeste ma il giardino non cesserà mai di crescere. Sedere in un giardino è un sogno, il sogno della quieta e del riposo dopo il lavoro compiuto di un giorno, dopo il lavoro compiuto di un anno, dopo il lavoro compiuto di tutta una vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.